Ben trovati amici del Centro Aumento Italiano, diamo uno sguardo alle condizioni meteo attese per questo turno infrastruttimanale della Serie A. Dopo Intercaglia rigiocata ieri, oggi alle 18 è atteso il fischio di inizio di Benevento-Atalanta. Attenzione a possibili rovesci tra pomeriggio e sera in Campania, con temperature attorno a 16 gradi. Negli altri campi le partite saranno giocate in serata ad iniziare dalle 20.45. Tempo asciutto e cieli generalmente sereni, con temperature di circa 16-17 gradi per quasi tutti i match. Attenzione solo a qualche possibile rovescio, soprattutto a Crotone dove è impegnata la Juventus e a Napoli dove si giocherà contro l'Udinese. Temperature previste sempre attorno ai 16 gradi. Seguite tutti gli aggiornamenti sul nostro sito in vizio di questi importanti appuntamenti sportivi. Un saluto da parte del Centro Aumento Italiano!